Il sindaco di Vibo Valencia è sicura. Il mandato che i cittadini le hanno assegnato è quello del cambiamento. Maria Limardo, a cento giorni dall'insediamento della sua giunta, ha voluto incontrare la stampa per un primo bilancio e soprattutto per dare un segnale forte ai suoi concittadini. Ordine, legalità, senso di appartenenza sono le parole chiave con cui intende caratterizzare il suo operato, ben consapevole della complessità che comporta l'amministrazione di un comune difficile come Vibo Valencia, ma nella consapevolezza di voler far uscire dal tunnel la città. Credo che la città ci abbia dato veramente il mandato del cambiamento. Negli ultimi dieci anni la città è andata sempre più sprofondando, lo abbiamo visto, lo dicono i numeri, lo dicono i dati, lo dice una visione generale della città. Il mandato dei cittadini è certamente quello del cambiamento, quindi noi abbiamo delle direttrici ben precise che abbiamo appena detto in campagna elettorale e che abbiamo ripetuto ora dopo questo primo bilancio dei cento giorni. Ripristino delle regole, ordine, legalità, trasparenza, sono queste le nostre direttrici, i nostri punti di riferimento. Dobbiamo assolutamente cambiare rotta, dobbiamo invertire la marcia, dobbiamo andare verso la direzione del cambiamento e del miglioramento delle nostre azioni. Un altro aspetto importante è il recupero del rapporto di fiducia tra cittadino ed amministrazione e viceversa. Anche in questo senso io mi sto spendendo molto, credo che il recupero della fiducia passi innanzitutto attraverso una logica del fare perché il cittadino sta verificando come e quanto noi ci stiamo realmente impegnando sul territorio, non solo io ma tutti quanti i miei assessori. Stiamo dando l'anima per questa città e cerchiamo di dare risposte serie e coerenti con il programma. Soprattutto abbiamo invertito anche in questo senso il nostro rapporto perché per esempio alla mia porta bussano quotidianamente moltissime persone, io le ricevo, parlo con loro e ci parlo anche piacevolmente perché ascoltare dalla voce delle persone le problematiche della città è certamente momento di arricchimento ed è anche momento di riflessione sulle cose di cui la città ha effettivamente bisogno.